Gentili telespettatori, buona giornata. È arrivato l'ultimo, il verdetto del Tribunale dei Ministri su Speranza, sull'ultimo procedimento a suo carico. Riconosciuta la correttezza della condotta, l'ex Ministro della Salute dice «Ho sempre creduto che la verità sarebbe emersa» perché viene archiviato dal Tribunale dei Ministri questo procedimento a suo carico e lui dice «contento perché sicuro che la verità sarebbe emersa». Il Tribunale dei Ministri di Roma ha archiviato l'ultimo procedimento a carico dell'ex Ministro della Salute, Roberto Speranza, aperto a seguito di alcune denunce relative alla campagna di vaccinazione. Lo annuncia in una nota stampa l'Avvocato Danilo Leva, legale dell'ex Ministro della Salute, Roberto Speranza, Robbi per gli Amici. Nell'ordinanza, in sintonia con quanto già affermato nella richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica, sottolinea l'Avvocato del Deputato del PD, viene riconosciuta la correttezza della condotta di Speranza, volta esclusivamente alla difesa dell'interesse pubblico e del diritto alla salute dei cittadini». E lui, Roberto Speranza, Robbi per gli Amici, ha aggiunto «e ha agito all'interno delle proprie prerogative istituzionali, per l'esclusivo fine di tutelare la salute collettiva della popolazione e giammai per fini individualistici, specialmente dolosi». Con queste parole il Tribunale dei Ministri di Roma ha archiviato l'ultimo procedimento giudiziario. «Ancora aperto a mio carico», dice l'ex Ministro, «ho sempre creduto che la verità sarebbe emersa. In una situazione difficilissima», scrive Roberto «Speranza su Facebook, ho dato tutto me stesso per salvare la vita delle persone, seguendo le indicazioni della comunità scientifica. Questa è stata la mia esclusiva priorità, come giusto che sia per chi ha giurato sulla Costituzione come Ministro della Salute». E poi aggiunge «ho vissuto giorni non facili», anche perché era una vera e propria campagna d'odio, tuttora in corso, alimentata da alcuni organi di comunicazione. Oggi però voglio solo dire, grazie al profondo del cuore, alle tante persone che mi hanno fatto sentire il loro sostegno». Allora, lui parla di una campagna d'odio alimentata tuttora in corso da alcuni organi di comunicazione. Beh, diciamo che c'è un giornale che un giorno sì e un giorno no parla ancora di Covid e di vaccini. Qual è? Almeno, credo che l'unico giornale che oggi parli ancora di Covid e vaccini sia la verità. Poi io leggo solo nella rassegna stampa i principali giornali italiani, non ho idea poi se c'è magari qualche altro giornale che parla un giorno sì e un giorno no di Covid, non lo so. Quindi quando Speranza dice che la campagna d'odio è alimentata da alcuni organi di comunicazione che tuttora hanno in corso questo, io conosco solo un periodico, un quotidiano che parla di vaccini, praticamente in prima pagina tutti i giorni c'è un qualcosa sui vaccini e la Pfizer, la von der Leyen e i messaggi e i vaccini. Quindi però non so esattamente l'ex ministro della Speranza, no, più che il ministro della Speranza e il ministro della Speranza, ecco, a chi si riferisse. Beh, certo che ancora c'è molto odio intorno a questo Covid. Diciamo che in alcuni è rimasto questo rancore verso lo Stato, verso tanti organi eccetera eccetera. Certo che è stato curioso avere durante una pandemia un ministro della Salute laureato in Scienze Politiche, insomma. Diciamo che durante una pandemia devi mettere come ministro della Salute un luminare o perlomeno cerchi il massimo il massimo esperto italiano di malattie infettive, di virologia. Ecco, insomma, io credo che un governo come si deve avrebbe dovuto prendere nella comunità scientifica il miglior medico che c'era in Italia sotto questo settore, categoria come lo vogliamo definire. Non mettere Speranza laureato in Scienze Politiche perché lui a capo del partitello che neanche mi ricordo come si chiamava doveva avere un ministero perché è successo questo. C'era il governo lì, come si chiama, dei migliori. Ricordate il governo dei migliori? E quindi nel governo dei migliori c'erano tanti partiti e visto che era un governo aperto a tutti e tutti dovevano avere pari dignità, ad ogni capo politico o ad ogni partito è stato dato un ministero. Ecco, Speranza è stato confermato perché prima c'era anche Speranza con Conte, con Draghi viene confermato Speranza perché comunque era capo di un partito e quindi lasciamolo lì praticamente. Ecco, l'indicazione era lasciamolo lì, però capite che fare prendere decisioni sulla salute pubblica a un laureato in Scienze Politiche è realmente incredibile, è davvero davvero incredibile, davvero incredibile. E come, non lo so, ipotizziamo, siamo in una gravissima crisi economica mondiale e tu metti come ministro dell'economia un coreografo maestro di danza. Un, deux, trois, quatre, les doubles, voilà! Ecco, ministro dell'economia, coreografo e maestro di danza. È la stessa roba, tu metti ministro della salute, un laureato in Scienze Politiche che ci state prendendo in giro? Con una pandemia che ha fatto quello che ha fatto mi ci metti un laureato in Scienze Politiche con tutto il rispetto per Scienze Politiche, ma non c'entra proprio niente, non c'entra proprio niente. E come vi dicevo prima, al ministero dell'economia metti un coreografo maestro di danza. Purtroppo la politica oggi è a un livello, oggi è un modo di dire, oggi vuol dire negli ultimi anni, è a un livello così infimo da far davvero ribrezzo. Ribrezzo, questa è una delle parole corrette, ribrezzo. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.